Buongiorno, benvenuti e benvenute nel primo episodio Digitech, una miniserie in cui andremo ad esplorare le caratteristiche tecnologiche, ma con un occhio di riguardo anche per quel che riguarda gli aspetti di business, di una moderna piattaforma digitale dedicata al mondo delle assicurazioni. Io sono Ivano Mantegazza e sono un solution consultant di Guidewire Italia. In questo primo episodio sono da solo, ma già a partire dal prossimo sarò accompagnato da colleghi e colleghe che mi aiuteranno e ci aiuteranno ad esplorare quali sono tutte le caratteristiche di una piattaforma digitale moderna dedicata alle assicurazioni. Ora, partiamo con un escursus di tipo filosofico. È meglio costruirla una piattaforma da zero, quindi quello che viene chiamato un approccio di tipo build o make, oppure utilizzo una piattaforma già fatta, e quindi con un approccio di tipo buy. In questo caso la nostra opinione è sicuramente polarizzata, quindi preferiamo non darvi una risposta diretta a questa domanda, ma lasciarvi l'opportunità di ascoltare quelle che sono, secondo noi, le differenze e le caratteristiche di ciascuna soluzione e lasciarvi la possibilità di decidere quale, secondo voi, è più adatta alle vostre esigenze. Bene, se paragoniamo questi due approcci alla creazione di un abito, potremmo dire che l'approccio build lo si può paragonare alla creazione di un abito su misura, un abito sartoriale, e quindi in questo caso avrà l'opportunità di scegliere tutto, come lo voglio esattamente, posso scegliere il tessuto, il modello, le misure e averlo costruito esattamente secondo i miei desideri. Nel caso invece pret-à-porter, con un abito pronto all'uso, avrò un set limitato di scelte, potrò scegliere magari il modello, il colore e poi potrò fare degli aggiustamenti e delle personalizzazioni in base a quelle che sono le mie specifiche esigenze. Analogamente per una piattaforma informatica dedicata al mondo delle assicurazioni, ho una situazione simile. In un caso potrò costruirla da zero secondo le mie esigenze, nell'altro mi dovrò adattare a fare delle personalizzazioni in base a quello che ho a disposizione. Qual è la soluzione migliore? Beh, come abbiamo detto, dipende. Da cosa dipende? Ma dipende da tanti fattori. Innanzitutto cosa c'è disponibile sul mercato. Se pensate, anche fino alla metà del secolo scorso, era più facile trovare un sarto che confezionasse un vestito su misura piuttosto che trovare un abito già pronto da indossare. Nella stessa maniera, sino alla fine degli anni 90, inizio degli anni 2000, di piattaforme per le assicurazioni pronte all'uso ce n'erano pochissime e avevano anche delle limitazioni. Quindi era molto più facile trovare sviluppatori, sarti, che mi confezionavano la piattaforma digitale per le assicurazioni che desideravo e che quindi potevano trasformare delle procedure manuali e cartacee in procedure elettroniche automatizzate. Se pensiamo, le piattaforme di tipo, quindi, Build o Make, che dire si voglia, che sono state create 20-25 anni fa, sono appunto di questo genere e hanno servito, e in alcuni casi ancora servono, in maniera più che degna, le assicurazioni in giro per il mondo. Ma ovviamente oggi sono disponibili anche assicurazioni, piattaforme di tipo Buy, che possiamo utilizzare direttamente per andare a soddisfare le nostre esigenze in una compagnia assicurativa. Beh, però nessuno ci vieta di continuare a crearci, quindi approccio Build, una piattaforma partendo da zero. In questo caso ovviamente dovremo essere pronti ad affrontare un progetto che sarà sicuramente più impegnativo e più oneroso dal punto di vista del tempo, delle risorse economiche e anche delle risorse umane da impiegare, ma dall'altro lato avremo una piattaforma disegnata esattamente secondo le nostre specifiche esigenze, quindi ritagliata esattamente sui nostri bisogni di business. Ovviamente dovremo impegnarci anche per tenere aggiornata questa piattaforma, perché? Perché dobbiamo aggiornarla dal punto di vista delle esigenze di business, ma anche delle esigenze di sicurezza. Sicurezza è un tema molto importante e dedicheremo un episodio solo per quell'aspetto lì. E esigenze di business, esigenze di sicurezza, dobbiamo anche tenere aggiornata la piattaforma per far fronte all'obsolescenza dei componenti tecnologici su cui la nostra piattaforma appoggia. Così come capita per la moda, anche le esigenze di business e le esigenze tecnologiche invecchiano molto più velocemente di quanto non accadesse in passato. Pensate anche a quello che conosciamo nel mondo retail, pensate ai nostri smartphone, tablet, computer. Dobbiamo fare l'aggiornamento dei loro sistemi operativi e delle applicazioni in maniera molto più frequente di quanto non facessimo nel passato. E ovviamente se abbiamo deciso un approccio make, build, potremmo avere delle limitazioni per le risorse che abbiamo a disposizione. Cosa succede? Succede che dobbiamo fare delle scelte. Magari ci dobbiamo dedicare solo a certi tipi di aggiornamento, quelli di sicurezza che sono fondamentali e dobbiamo a volte convivere con delle limitazioni tecnologiche. Le limitazioni tecnologiche fanno sì che magari noi dobbiamo andare a sfruttare le caratteristiche che ha la nostra piattaforma in una maniera non ottimale e quindi metterci più tempo per ottenere i risultati richiesti dal business. Questo magari ci porta a non arrivare per tempo sul mercato con una nuova innovazione. E come ben sapete questo può essere fondamentale. Pensate a quel che è accaduto nel 2020 dove da un momento all'altro il mondo è cambiato e con esso sono cambiate anche le esigenze assicurative dei clienti, delle compagnie assicuratrici. Ebbene in quel momento lì chi ha saputo sfruttare le caratteristiche tecnologiche e l'agilità della propria piattaforma è riuscito ad adattarsi meglio e più velocemente al cambiamento repentino che c'è stato e ovviamente ne ha tratto un beneficio a livello di business decisamente significativo. Vediamo quindi l'altro approccio. Cosa succede nel caso in cui io faccio una scelta diversa, una scelta di tipo buy? Nel caso di tipo buy e quindi nel caso in cui io scelgo una piattaforma pronta all'uso non mi dovrò più preoccupare tanto dell'aspetto tecnologico, mi concentrerò e mi focalizzerò sulle mie esigenze di business. Questo ovviamente è un prezzo perché a questo punto io dovrò rinunciare a parte del controllo per beneficiare della velocità. In che senso? Beh, pensate a quel che accade se voi decidete di costruire una casa partendo dalle fondamenta sino al tetto e quindi costruirla da zero, l'approccio build che dicevamo prima, oppure utilizzare dei moduli prefabbricati. Nel secondo caso ovviamente dovrete sfruttare le funzioni, i moduli di questi prefabbricati per poter ottenere le funzionalità che volete. Arriverete allo stesso obiettivo ma con una strada diversa. E se pensiamo, se continuiamo con questo paragone di tipo idile, allo stesso modo se possiamo ad allacciarci alla rete elettrica, alla rete del gas e alla rete telefonica con degli allacci standard impiegheremo meno tempo. In maniera simile una piattaforma digitale pronta all'uso mi permette di sfruttare integrazioni con sistemi esterne pronti all'uso e che utilizzano standard di mercato. Chiunque lavori nell'IT, sia che sia un IT dell'asseguazione, sia che sia un sistema integrator, ben sa quanto tempo e quante risorse sono necessarie per andare a creare tutte le integrazioni necessarie con i sistemi esterni. Il poter sfruttare integrazioni pronte all'uso riduce significativamente sia il costo sia i tempi per la loro realizzazione. E poi pensiamo ancora una cosa. Noi adesso abbiamo parlato di piattaforme pronte all'uso, ma di piattaforme pronte all'uso come abbiamo detto c'è stata una diversa evoluzione. All'inizio ne avevamo una scarsità, poi siamo passati a piattaforme che erano disponibili e venivano installate sull'infrastruttura tecnologica del gruppo assicurativo, quelle che abbiamo chiamato installazioni on-premises. Da quelle poi si è passati a installazioni su reti remote, su infrastrutture remoto, quindi nel cloud come si suol dire, dove però comunque la gestione della piattaforma era ancora fatta praticamente interamente dal gruppo assicurativo. Per poi arrivare a un'altra soluzione, quella che chiamiamo di software as a service, di platform as a service, dove non solo sono in una infrastruttura remota, ma la gestione della piattaforma è demandata in buona parte al mio software vendolo. Bene, vedete quante tipologie diverse di piattaforme pronte all'uso ci sono. A queste e ai suoi dettagli dedicheremo le prossime puntate di G-Tech. Per oggi ci fermiamo qui e vi aspetto al prossimo episodio.